Ritorno a San Vito Jazz, quattordicesima edizione, tre appuntamenti come di consueto, tre appuntamenti con diverse declinazioni del jazz del nostro territorio nazionale e internazionale, 14, 21 e 28 marzo, sempre all'auditorium di San Vito Tagliamento, ore 21, con un abbonamento sempre molto conveniente che consigliamo. Il primo appuntamento sarà un ricordo, un tributo doveroso a un grande pioniere del jazz del Friuli Venezia Giulia, Mario Costalonga, con una straordinaria carriera internazionale, svolta soprattutto in Estremo Oriente, a Hong Kong, dove ha vissuto molti anni. Ricostruiremo la band con cui Mario ha suonato nei suoi ultimi anni, con grandissimi pubblicisti nel nostro territorio, da Bruno Cesselli e Francesco Berzzati, Gaspar Pasini, Mark Abrams e suoneremo la musica che Mario amava, di cui era un grandissimo maestro, per cui l'art bop degli anni 60, dei primi anni 70. Un appuntamento imperdibile per ricordare come è giusto chi ha dato sangue, sudore e passione per il jazz e ha aiutato a far crescere questa musica. Il secondo appuntamento sarà con Mauro Tolini, è un progetto molto particolare, si chiama Musiche per Conchiglie, è un progetto che vuole essere un grido d'allarme, un grido di dolore anche per le condizioni del nostro amato pianeta che soffre per l'impinamento, in particolare per il mare, per cui si tratta di un progetto che è costruito intorno all'idea di suonare le conchiglie, la grande collezione di cui Mauro è un grande collezionista, è un ottimo uno strumentista, suonerà queste musiche costruite appositamente appunto per valorizzare questo particolare oggetto che diventa in questo caso uno strumento, con una formazione originale messa appunto, riunite per l'occasione, per San Vito Jazz e suoneranno le musiche appunto darsi scegli a questo disco molto bello, molto forte, molto intenso che è stato pubblicato l'anno scorso. Un appuntamento inedito, appunto una formazione originale, riunite per l'occasione. L'occasione per ascoltare delle musiche molto gioiose, riflettere gioiosamente sui pericoli per l'ambiente. Ultimo appuntamento, anteprima assoluta europea, il primo concerto del nuovo progetto di James Brandon Lewis, sassofonista afroamericano, new yorkese, tenorista, indicato da Sonny Rollins, il sasso con Colossus come il suo naturale erede, per cui l'occasione per ascoltare il meglio della produzione contemporanea del jazz, una formazione nuova anche in questo caso, D.T. Jackson, una pianoforte, John Edwards, il Mark Sandler, stella ritmica, appunto concerto inedito e nuovo, anteprima assoluto europeo, presenterà James Brandon Lewis, il nuovo suo repertorio, il disco che uscirà la prossima primavera. Per cui aspettiamo tutti a San Vito Jazz e buon repertorio.